Socrate Bertoni, fatti riconoscere. Nel centro storico di Roma, dal 1956, Socrate offre articoli delle migliori marche nel settore dell'abbigliamento classico e casual e un servizio personalizzato di capi su misura. La sartoria interna consente inoltre la modifica su tutti i capi. Socrate offre infine ai suoi affezionati clienti abiti e giacche con misure calibrate. Grazie per la visione!